E' stata fatta Pinocchio e poi l'ha fatta... Ma io l'ho dicendo di tre cucchiai... Un signore va al medico e dice... Dottor, venite, che è il botto... Sto con mia dottorana, faccio l'istinto... Dice... Come va con il coppo? Il tempo che si agli in coppo si è mostrato il coso... Dice, sentite, stai a vestire quello perché si regna con un flusso sanguigno Dice, qui a mente che si agli in coppo Se ne va per la muscolatura e si è mostrato qua Faccio il negocio, quando venne l'istinto, Sperato colpe di fuggito, faccio il venire in Settebrutti Ma questi anni, dopo non vanno in miso... Oh, come ci troviamo... Oh, mire, che ha fatto troppo esi... Certo, mire, come giova con mia amma... O consiglio aiuto a voi... Dottor, che faccio lì... Ma come, mi faccio la tua qua per conti... Dottor, che faccio lì... E quando sarebbe pronta la caccia per farciare una puttana... Quando sono avanti tutti gli scontri... E se tratta la tanto... Comentare automa... Or province uno dei freddi... Non lo ducono... E so di spik gå... Ragazzi, invece invece noi ha aiuto con la caccia per a chi Porta seattle... Madonna... 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 Karate non lo ducono... A chi si attrave chi... Spik gå! Ma non lo duchò! qui c'è giusto io, esco un po' nuveglie, lo tempo che esco, lo tempo che è stato fatto la figlia di nove gizzo c'è stata la compagno, è stata zitta, io ne ho una c'è stata zitta, io ne ho una che ha fatto un incidente di strada le perzellose, ma... Cosa? Ah, dice, non si fanno niente di gizzo, ma... figlia di queste bozze... dice, aveva i bozzi a fare le nocce, queste bozze niente a barca, una botta di 100 uomini, quindi... d'accordo, d'accordo, adesso va a capo e pensi, chiede, ma che ti fa adesso? Già, chiede, 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 con le nuove turnie di gizzo, chiede, non so che pute fero, bisogno del loro a Grazie a tutti